Benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno su Fano TV, canale 17, siamo in diretta, sono le 7 del mattino, oggi è sabato 29 maggio, siamo ormai arrivati alla fine di questo mese che ci porta verso l'estate, allora andiamo a vedere il santo e poi il tempo, il santo di oggi, i santi martiri Sinisigno, Martirio e Alessandro, il sole è sorto molto presto questa mattina, alle 5 e mezza, tramonterà alle 20 e 43. Uno sguardo anche al tempo, nelle ore pomeridiane avremo possibilità di isolati rovescio temporali di breve durata nel settore montano, poi dal tardo pomeriggio rovescio temporali sparsi nelle zone alto, collinarie e montane, in particolare nel settore centro meridionale della regione. Sempre la protezione civile delle marche, oggi per domani prevede ancora in nottata rovescio temporali in esaurimento nel settore montano, della porzione meridionale della regione e invece il sole e un po' di nuvole sulla costa. Lunedì il tempo, lunedì 31 maggio, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, tempo stabile anche per la giornata di martedì. I giornali, Carlino di Pesaro, multe sui tornanti, questa è la fotonotizia del giorno, tutor lungo la panoramica, basta con moto e auto a tutto gas, dunque il caso di dire si mette un freno, un po' a questa cattiva abitudine dei motociclisti di sfrecciare come se fosse in un circuito con le proprie motociclette. Viale Trieste, ecco il look estivo, siamo sempre a Pesaro, lanterne, fioriere, panchine e gazebo in vista delle isole pedonali che scatteranno tra il 7 e il 10 di giugno, poi la cronaca a San Costanzo, tragedia, mentre lavora nei campi, muore un agricoltore, la truffa, o meglio l'accusa di truffa per un imprenditore che è finito a processo per alcuni lavori fantasma e poi vecchio Palace di Pesaro, corsa contro il tempo, a rischio un milione e il rischio è di perdere i fondi e a proposito di palazzetto, a proposito di basket e di VL, Repesia ha clamato a Bologna con Pesaro, niente accordo, la fotografia che mostra l'ex allenatore della VL, appunto osannato, è il caso di dire, dai tifosi bolognesi. Poi gli edifici della città, sempre di Pesaro, il tesoro del San Domenico al Comune per un milione, dose alle persone con patologie, da domani al via le prenotazioni, poi sotto di taglio basso lo sport con il volley da una parte, Megabox sogna, se oggi vince sale in Serie A1, alle 17 seconda finale, stavolta in casa l'allenatore Bonafede dice meritiamo il traguardo e poi il calcio, dall'altra parte invece, fanno a Imola, passa il treno per la salvezza, alle 17.30 c'è l'ultimo atto dei play-out, granata obbligate a successo per rimanere in Serie C, altrimenti, e non lo diciamo nemmeno. Corriere Adriatico, sempre edizione di Pesaro, San Domenico, obiettivo tesoretto, il complesso acquisito dal Comune di Pesaro partecipa al bando statale sulla rigenerazione urbana, dieci anni dalla sua stesura, ritorna in auge il progetto dell'architetto Canali per il recupero, mentre centropagina, guardate che tristezza questa fotografia, visita i nonni nelle case di riposo con questo nastro bianco e rosso di quelli che si usano nel vedere nelle foto di cronaca, rivedersi che emozione, insomma, mica tanto, a guardare questa foto mette tristezza davvero, ma comunque, meglio di niente. Nel futuro, queste le interviste del Corriere Adriatico, le interviste sulla regione, nel futuro più relazioni di qualità e meno cose, parla l'attrice Lucia Mascino e poi l'intervista a Gian Mario Spacca, ex governatore, che parla sul commissariamento, perché disuniti? È la mia grande sconfitta, dice, dice appunto Spacca, è la mia più grande sconfitta, anzi dice, nella mia precedente vita ho provato a riunire le tante marche in una regione, ma non ci sono riuscito. Questo in riferimento al commissariamento, ai tanti commissariamenti, dalla politica alla confindustria, come abbiamo visto, ma anche in altri settori, insomma le marche come uno spezzatino. Sotto invece salvataggio nelle spiagge libere, gara vuoto per il servizio, un servizio dunque che è in tilt, speranze legate a Incoming e Mare Dentro, che sono due associazioni, Pedini, Rinuncia e Maggi, detta le condizioni, dunque a Fano per il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, è tutto ancora in alto mare, è andata infatti deserta la gara per l'assegnazione dell'incarico, finanziato con 225 mila euro e di portata triennale, indetta scadenza dal precedente mandato. Una grana non da poco per il comune che intendeva avviare il servizio a giugno. Poi anche qui lo sport a Fano, il Fano la fascia 40-49 anni non ha nessuna intenzione di vaccinarsi, o perlomeno sono pochi quelli che hanno già telefonato e pernotato il loro appuntamento. La stessa cosa più o meno tra i 50 e 59 anni. Il titolo di oggi però, prendendo le parole di Nadia Storti che è il direttore generale dell'Asur, delle Marche, la frenata degli over 40 mette a rischio l'obiettivo dell'immunità di greggio. Poche richieste per le vaccinazioni fino a 59 anni, domani le prenotazioni per i marchigiani con patologie ma senza limiti di età. Poi parla anche il virologo Menzo che dice che la protezione antivirus è importante per la società. Il Covid circola ancora e senza sieri a settembre ricomincerà dagli anziani. Ecco qua lo spauracchio. In realtà nessuno lo sa, diciamoci la verità, nessuno lo sa. Stiamo qui a discutere su qualcosa che nessuno ancora sa. Possiamo ipotizzarlo? Certo, lo ipotizziamo, ma ancora nessuno lo sa. Non è coprendo solo le categorie fragili che risolviamo il problema del Covid. Dobbiamo arrivare all'immunità di greggio e se il virus continua a circolare, se il virus continua a circolare anche solo tra le categorie più giovani, queste magari non si ammalano e non muoiono, ma arriveranno nuove mutazioni su cui non abbiamo certezza dell'efficacia dei vaccini fatti e si rischia così di ricominciare tutto da capo. Nell'auspicio che chi non si è ancora prenotato risponda all'appello, la Regione ha aperto un nuovo canale di registrazione per persone con comorbidità. Dalle 12 di domani i cittadini marchigiani senza limiti di età sopra i 16 anni, con specifiche patologie senza elevato grado di rischio, potranno prenotarsi tramite il portale di poste ed occorrerà disporre anche del codice di esenzione della patologia. Insomma, sempre più difficile. Sulla protezione dei vaccini finora abbiamo dati per tempi brevi, quindi non sappiamo quanto durerà la copertura vaccinale, non sappiamo se le persone dovranno fare questo addirittura terzo richiamo, non sappiamo ancora un bel niente. Sappiamo soltanto che siamo di colore giallo, che il rischio è basso, che la variante inglese nigeriana, o meglio quella inglese gira più di tutti perché è confermato che il 90% dei test è con la presenza del virus, con la mutazione genetica inglese, mentre il 10% nelle marche appartiene a quella nigeriana. Quindi un 10% nigeriana, 90% inglese, questo lo sapevamo, nessun caso invece, almeno analizzato fino ad oggi, riguarderebbe la temutissima variante indiana. Se il calo del virus continuerà a ritmi delle ultime tre settimane, dal prossimo monitoraggio anche le marche avranno dati da zona bianca e dunque lo saranno a partire dal 21 di giugno, in coincidenza, in concomitanza con l'inizio della stagione estiva e quindi potremmo dire per esempio addio alla mascherina all'aperto. La data certa ancora non c'è, ma gli esperti hanno ribadito più volte che con l'arrivo della stagione più calda è ipotizzabile accantonarne l'utilizzo. Ora, sui vaccini aperti a tutti dal 3 giugno, il titolo del resto del Carlino, le dosi anche ai 12 anni, arriva il sì da parte dell'EMA. In archivio il sistema legato all'età, possibile la somministrazione in azienda, ma dipenderà dalle regioni. Ora, è chiaro che è arrivato sì questo via libera al vaccino Pfizer ai 12 anni, 15 anni, insomma, ma se tanto mi da tanto, considerato che c'è poca gente che tra i 40 e i 49 anni, anzi fino ai 59, non ha nessuna intenzione di vaccinarsi, figuriamoci se uno vaccina il figlio di 12, 13, 14 anni. Quindi io credo che in linea di massima, come abbiamo detto in queste settimane, la gente si sia preoccupata soprattutto di vaccinare le persone più deboli, quindi i propri genitori, le persone con patologie, eccetera eccetera. Su se stessi, se uno sta bene, non ha grossi problemi, insomma, per il resto credo che i vaccini ancora non siano così, non ci sia tutta questa voglia di vaccinarsi in sostanza. Poi soprattutto quando vediamo che, insomma, ci sono molte cose che non quadrano. Anche se su AstraZeneca, vorrei dirvi questo, su AstraZeneca, l'altro giorno sono venuto a sapere che questo vaccino costa agli operatori, alle regioni, allo Stato, agli Stati, eccetera, un euro e 50 AstraZeneca. Ogni dose costa un euro e 50. E mentre Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, si aggirano in una media, è di circa 8-9 euro. Capite che la differenza di prezzo è notevolissima, è molto evidente. Quindi a questo punto anche qui nasce l'interrogativo. Ma come mai solo AstraZeneca è stato così bistrattato? Solo di AstraZeneca si è parlato così male? Solo AstraZeneca ha provocato tutte queste reazioni avverse? In realtà, se poi andiamo a vedere i dati, Pfizer ne ha avute molte di più, molti più casi, anche di morte, con tutte le dosi che hanno somministrato e tra chi ha avuto appunto queste reazioni avverse. Quindi perché di Pfizer non dice niente a nessuno? Questo è un interrogativo, questa è una domanda che dobbiamo porci, perché se noi andiamo ad analizzare i dati, effettivamente i casi avversi, le reazioni avverse anche molto gravi, ce ne sono state più con il vaccino Pfizer che AstraZeneca. Ora, questa differenza di pezzo fa pensare che qualcuno possa aver boicottato questa campagna di AstraZeneca. Perché? Perché semplicemente voleva evitare che gli Stati comprassero a poco prezzo questo vaccino. In realtà i vaccini, mi dice un esperto, sono tutti uguali. Alla fine più o meno si assomigliano tutti e quindi non ci sono grosse differenze. Così mi diceva un esperto e questa è l'analisi che ha fatto insieme a me qualche giorno fa, è che io vi riporto come stimolo per ragionare, per riflettere, per farvi un'idea. Poi ognuno non è che deve essere d'accordo con la mia, ma ecco, tanto per farvi capire e per dirvi, anche perché su questa cosa dei prezzi eccetera, sì qualcosa era uscito, così come il fatto che Pfizer avesse molte reazioni avverse. Qualche cosa era uscita. Ne abbiamo parlato una volta sola, poi non è più apparso nulla sui giornali. Il CTS poi, questo è un'altra notizia che, questo dietrofront che certamente toglie credibilità, perché ieri su questa rassegna leggevamo che il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico, stava ipotizzando, stava prendendo in esame la possibilità di far indossare la mascherina e commensali durante la cena. E molti avevano ironizzato su questa cosa, perché insomma immaginate voi a cena o a pranzo con la mascherina, sempre con la mascherina, poi uno mangia, toglie la mascherina, poi se la rimette. Ma è chiaro che non è così, però era questo che il CTS ieri ipotizzava. Oggi, che cosa si legge? Fa dietrofront. Ecco, vedete, queste marce avanti e indietro chiaramente non fanno bene, perché è un Comitato Tecnico Scientifico, quindi dovrebbe avere, ci si aspetta che abbia un'idea chiara, definitiva, certa e non che spari le cose così a casaccio come coriandoli. Niente mascherine a tavola, quindi questo è un dietrofront. Bisognerà coprirsi naso e bocca solo quando ci si muoverà dal proprio tavolo, cioè così come sta avvenendo in questo momento. Il CTS dunque ci ripensa. Dopo una lunga riunione con i tecnici della Conferenza delle Regioni, il Comitato ha deciso di soprassedere sulla richiesta che ai tavoli interni di bar e ristoranti i clienti avrebbero dovuto indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, tranne nei momenti del bere e del mangiare. Questo, come dicevo ieri, sarebbe stato forse più utile nel momento, qualche mese fa, certamente. Intanto il Montefeltro avrà il suo punto vaccinale. Il Montefeltro comprende anche Montecopiolo e infatti il sindaco Pietro Rossi ha annunciato che i suoi concittadini che passeranno a breve con la Romagna avranno questo punto vaccinale. Ottima scelta, quella di Macerata Feltria, che è una località baricentrica e così avrà un hub, quindi un centro vaccinale anche urbana, soprattutto per servire dell'entroterra. Poi la pagina di fanno del Corriere Adriatico, gli espropriati della ciclovia spazio alle nostre proposte, la vicenda in Consiglio Comunale sollicitata da un'interpellanza di 5 Stelle, ma sotto la notizia è che Giuseppe Franchini è il nuovo presidente della sezione Avis di Fano. La missione sarà scuola, sport, parrocchie e associazioni per espandere la cultura della donazione. La pagina di Fano invece del Carlino, Foro, Tempio e Basilica, Caccia dei Tesori Romani, c'è la proposta, la proposta di Paolo Clini, di mettere insieme, Paolo Clini è docente dell'Università Politecnica, di mettere insieme tutte le informazioni disponibili e di creare un gruppo di lavoro con conoscenze specifiche per definire l'area forense. E di questo è d'accordo anche Luciano De Santis, che è esperto di storia romana a Fano, che però in passato dice si è detto di creare questo gruppo di lavoro, ma non si è mai fatto e anzi si è sempre andato avanti in ordine sparso. Poi la notizia è che il prefetto Ricciardi, il neoprefetto della provincia di Pesurbino, ha fatto visita al sindaco Massimo Seri, un incontro per illustrare gli aspetti della città. Sempre dalla pagina di Fano del resto del Carlino, stoppa i vaccini per la festa, tutto previsto. La protezione civile dice prima di consegnare quella struttura avevamo già programmato, è l'Asur che non doveva dare l'appuntamento in quei giorni. Ora, prima di consegnare la struttura, quella dove si fanno i vaccini a Fano, prima di consegnare questa struttura all'Asur Area Vasta 1 per fare i vaccini, spiego Livi, noi avevamo già programmato quella cosa, quindi questa cerimonia per ricordare i 35 anni di attività del CB Club Mattei. Quindi è l'Asur che non doveva dare l'appuntamento in quei due giorni e questo era l'accordo. Avevamo chiesto all'Area Vasta 1 di non programmare in quelle date le vaccinazioni, ma la risposta è stata che il computer, attenzione perché qui la chiave, questo computer dell'Asur dà automaticamente queste date e quindi è come se non avessero potuto fare altrimenti. Come dire, il computer ha dato queste due date in cui la protezione civile da molto tempo aveva programmato questa cerimonia, ma l'Asur ha rassicurato il Presidente Olivi dicendo, guardate non c'è nessun problema, ma poi avviseremo noi le persone con un SMS dicendo che l'appuntamento è spostato al giorno dopo o due giorni dopo. Quindi non è una nostra iniziativa presa a metà strada in cui si crea un disagio, è un disagio di chi l'ha creato che non ha voluto tenere conto di quelle date e questo dice Olivi, mi dispiace. Quindi la situazione era tutta qua, niente di che. Due giorni con l'hub chiuso del Codman di Rociano, a mio giudizio, non casca il mondo, non succede niente. Due giorni vengono spostati, il giorno dopo e non c'è una carneficina per questo, non succede niente. Però c'è tanta voglia di fare polemica, questa sì, tanta voglia di fare polemica. E qual è il tribunale per eccellenza dove poter fare polemica? Un luogo dove c'è il nulla, ovvero Facebook o i social network, dove si dice tutto, il contrario di tutto, dove uno si sveglia la mattina, scrive due stupidaggini e poi va a lavorare. Ecco, questo è, e molta gente ci crede, e quindi questo è il problema vero. E quindi per molti Facebook è l'oracolo, quindi l'ha detto Facebook, anche l'ha detto Facebook, un sacco di stupidaggini. Allora, tra queste dichiarazioni un po' così, anche scomposte, c'è quella, a me dispiace, dell'ex assessore Mauro Falcioni, di Forza Italia, che usa parole anche forti, secondo me troppo forti, esagerate, e dispiacciono. Comunque ve le leggo perché le ha pubblicate il giornale stamattina. Allora, Mauro Falcioni, ex assessore appunto, dice La toppa messa da olivi è persino peggiore del buco. È una cosa che lascia estere fatti. Abbiamo la gente che muore perché non ha fatto il vaccino, ma adesso questo è tutto da, non è assolutamente vero, e questi si permettono di festeggiare. Se uno muore è perché ha preso il Covid, ma non perché non ha fatto il vaccino oggi al Covid. Ma che festeggiassero questo importante traguardo tra due mesi, quando tutti saremo vaccinati. Anche questo non sarà vero. Nessuno sarà, fra due mesi, nessuno potrà dire che siamo tutti vaccinati. Quindi, comunque, poi dice altre cose che vi lascio leggere sul giornale. Parla, fa la similitudine come se fossimo in guerra nel 44, eccetera, eccetera. Spesso, giornalisticamente, abbiamo usato questo termine per dire che questa pandemia è come la guerra, eccetera. Non è assolutamente vero. Io non l'ho fatta la guerra, grazie a Dio, ma non penso che possano, gli anziani che hanno fatto la guerra, possano dire, e qualcuno l'ha detto, intervistato, che possa essere paragonato alla guerra. Non è una guerra, anche perché se fossimo davvero in guerra avrebbero vaccinato giorno e notte. Invece c'è gente che si è permessa anche di stare a casa il primo di maggio. Quindi non mi pare che siamo così in guerra. Per questo il Consiglio Comunale, qui ecco la chiusa che lascia un po' la mare in bocca, per questo il Consiglio Comunale, dice ancora Mauro Falcioni, dovrebbe votare unito una mozione di sfiducia a questa protezione civile, tanto più che Fano si è sempre vantata del suo operato come fioro all'occhiello. Ecco, io non devo difendere la protezione civile, ma io credo che i fatti parlino chiaro. Insomma, quello che ha fatto e quello che sta facendo la protezione civile è incommiabile. Questa polemica, francamente, lascia un po' il tempo che trova. Banda di ragazzini, piomba in centro invece. Qui siamo a Pesero, questo è un frame del video che è stato postato sui social. Guardate questo ragazzino che punta la pistola, anche se poi ha il tappo rosso che indica che la pistola è giocattolo. Ma comunque, insomma, vedere di sti tempi uno che punta una pistola, anche se fosse giocattolo, uno non è che, ecco, è comunque può spaventare. Questo ragazzino aveva stato scacciacani in pugno per intimorire. È successo giovedì pomeriggio a Pesero, in centro. Due quattordicenni sono stati denunciati dalla polizia per addirittura resistenza. Hanno 14 anni al massimo, il più piccolo ne ha 13, per la legge non è nemmeno imputabile. Ci penseranno se ce li ha i genitori. In arrivo i tutor, i tutor per i tornanti del San Bartolo. Questa è la notizia di apertura del resto del Carlino. Moto e auto ad alta velocità sono un rischio. Il presidente dell'ente Parco, Stefano Mariani, ha chiesto alla provincia l'installazione di rilevatori su alcuni tratti della strada. Nessun preconcetto, ma entriamo nella stagione di massima affluenza e dobbiamo tutelare chi cammina e chi va in bicicletta. Mentre sulla pagina della Valle del Cesano, la tragedia che ha visto protagonista un 87enne, Dino Mattioli, questo è il titolo e c'è anche la fotografia della vittima. Cade dal trattore nel suo podere, un traliccio non gli lascia scampo, colpito a entrambe le gambe, è stato scoperto da un passante, inutili soccorsi per lui. È successo a San Costanzo l'altra mattina nelle campagne tra Marotta e San Costanzo. Dino Mattioli, 87 anni, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate dopo la caduta da un trattore. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un terreno agricolo che si trova in una zona di confine tra la città di Marotta e il comune di San Costanzo, appunto in strada di mezzo. Ora, è inutile dire, queste persone, questi 87 anni sul trattore, capite? Ma non si può dire nulla, perché questa gente ama la propria terra, ama il lavoro che ha fatto per una vita, quindi è come per un musicista morire sul palcoscenico, alla fine morire dispiace a tutti, però ecco, questa è una tragedia, chiaramente è una tragedia, però ecco, non gli si può dire nulla, anche se a 87 anni giustamente su un trattore sarebbe stato meglio non esserci, però non gli si può dire nulla, queste persone vivono per queste cose e se gli togli questa speranza, questa voglia di fare, di continuare, magari sentendosi un po' in salute, gli fai morire di un'altra cosa. E quindi è vissuto, è vissuto, ha fatto quello che gli piaceva fino all'ultimo, questo potrebbe essere una magra consolazione, però ecco, perché sono tanti gli anziani, ve ne raccontiamo purtroppo di queste storie attraverso i giornali, la cronaca, eccetera, molto spesso, anche qualche settimana fa, un'altra persona era morta proprio sul trattore, anche questa, 88 anni mi pare, una cosa di questo genere, però è la loro vita, è così. Vaccini a Pian del Bruscolo, l'ok dei medici su due centri, Casa della Salute e Sede o Sede dell'Unione, qui siamo appunto nella zona Vallefoglia, Pian del Bruscolo, c'è la possibilità per tutte le persone che vivono lì di avere questa nuova sede, Ucchielli che è il Presidente dell'Unione, dice dobbiamo accelerare, accelerare con le vaccinazioni su tutta l'area del Pian del Bruscolo, Bruscolo come spesso si è ascoltato in questi mesi a livello nazionale, e anche Palmerucchieli vuole intensificare sul territorio la somministrazione del vaccino anti-Covid e in tutta la provincia stanno nascendo piccoli hub di prossimità, piccoli hub, piccoli centri che tolgono chiaramente, che fanno sì che non ci sia il disagio di dover andare magari dall'entroterra fino a Pesolo, fino a Fano o anche a Urbino. Didattica dal vivo, qui siamo sulla pagina di Urbino del Carlino, ritorno alla normalità, confronto tra Comune, Università e Erdis, il magnifico Rettore ha parlato anche dei nuovi progetti, poi anche qui il neoprofetto Ricciardi in visita ad Urbino. Andiamo a Senigallia, scapezzano due lupi nel giardino, stavano sbranando la cagnolina, ecco un'altra, un'altra storia che è simile a quella che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa da Monbaroccio, stavano sbranando la cagnolina e il proprietario dice ho ripreso Briciola nel campo di grano, siamo tutti terrorizzati, non possiamo vivere in questo modo. A Corinaldo gli avvistamenti sono quotidiani, seguono i cinghiali e seguono anche i caprioli, ecco perché poi i caprioli ce li ritroviamo nel Canale Albani, ce li ritroviamo a Fanone, in città, in pieno centro, perché? Perché devono scappare, stanno venendo tutti giù a valle, quindi i lupi che inseguono i caprioli, i caprioli che sfuggono, i cinghiali che fuggono finiscono in città. I ladri vanno a caccia invece di monopattine elettrici, questa è l'altra notizia sempre dal Corriere di Senigallia. Anche il Carlino, lupi in città, sbranata una cagnolina, qui c'è la foto addirittura dell'animale, subito dopo, con la foto dell'intervento che è avvenuto per salvare appunto questa cagnolina, l'animale è stato operato in urgenza, la denuncia della famiglia Mencucci dice non possiamo, non possono, scusate, arrivare così vicino. Questo lupo che pare a scapezzano giri da qualche giorno, ecco, questo è successo dopo le 10 di sera, questa è la notizia. Poi addio a Brux, malore fatale per Mandolini, aveva 63 anni, aveva detto ai familiari di sentirsi poco bene, poi ieri mattina all'Alba il suo cuore ha cessato di battere. A spasso dopo le 22, fiaccano le multe, quattro giorni sanzionati, quattro giovani penso, sì, per non aver rispettato il coprifuoco, nei giorni scorsi altre sanzioni di questo tipo. Chiudiamo velocemente con lo sport, perché oggi per il fano calcio l'Alma Juventus è il giorno più lungo, Serie C o retrocessione? A Imola, play-out di ritorno, dopo il pareggio dell'andata e Granata, devono solo vincere. Mentre Megabox, ultimo sforzo, alle 17 a Montecchio, gara 2 con Pinerolo, se Vallefoglia vince, sale in Serie A1. E sotto la World Cup, che si sta svolgendo a Pesero, vedete, show per pochi intemi, a Pesero da ieri e domani, fino a domani sono in gara le migliori atlete del mondo, ma a porte chiuse, Sofia Raffaelli, manca la finale per un soffio. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, la rassegna torna lunedì mattina, come sempre, alle 7, questa sera c'è 7 per occhio, vi ricordo gli appuntamenti, gli appuntamenti di questa giornata su Fanotv, e domani, alle 18 Rosario dal Libano, alle 21 invece dalla Santa Casa di Loreto, poi domenica alle 10 la Messa da Loreto, a mezzogiorno l'Angelus, e alle 18 il Rosario da Pompei. Buon fine settimana a tutti e arrivederci.